Il consumatore 3.0 è una persona radicalmente nuova che noi non abbiamo mai conosciuto nella storia sociale italiana. È una persona molto più colta, molto più critica, molto più cosciente dei propri bisogni e dei propri diritti che ha attese molto forti nei confronti dell'offerta tutta, ma l'offerta tutta non se ne è resa conto e quindi non sta rispondendo. Il consumatore chiede aiuto, sa che il mondo è complesso e ha bisogno di essere aiutato, ma è abbandonato da solo. Il consumatore però sa giudicare, sa premiare e sa punire e bisogna che le aziende facciano molta attenzione a essere così distratte. L'evento di questa sera è un evento estremamente interessante perché è raro, molto raro, che un'azienda, soprattutto di comunicazione ma in generale, abbia un'attenzione così elevata nei confronti di questi nuovi accadimenti. Sono accadimenti che cambieranno la nostra vita in futuro, ma io la confronto invece con un atteggiamento completamente diverso da parte di altri che sono molto più attenti agli accadimenti del momento per business di brevissimo periodo, non occupandosi di quello che potrà accadere nel futuro. Stasera invece è stato dimostrato il contrario. Faccio i complimenti, più vedi. Grazie.